Ciao ragazzi, eccoci di ritorno da Budapest. Siamo andati a fare una gara di livello 3, appunto nella capitale europea, alla BTK Shooting Arena. È un poligono di tiro carino, piccolino, ma con tutto, strutture molto belle, a circa una mezz'oretta dal centro di Budapest. Quindi anche alla sera volendo, con la macchina, si parcheggia di fianco al Danubio, lungo fiume, e poi si fa una bella passeggiata in centro di Budapest, che è una gran bella capitale europea. Campo, abbiamo detto, piccolino, stage non esageratamente grossi, però una grande particolarità che a me in dieci anni di gare non era mai successo, ovvero quello di sparare sulla sabbia, cioè il fondo era sabbia. In alcuni stage era terreno duro, ma nella maggior parte degli stage era proprio sabbia, come essere spiaggia. Quindi molto particolare, reattività chiaramente delle gambe diversa, tiro e movimento ovviamente diverso, perché si hanno degli appoggi differenti con i piedi, quindi particolare. Vedendola da fuori, noi siamo arrivati di sabato sera, abbiamo fatto una piccola ricognizione esterna, sembrava una garetta, diciamo, non particolarmente impegnativa, viste le lunghezze dei campi, gli bersagli, eccetera. Ma poi, andando a sparare, andando a fare la gara, ogni stage aveva la sua particolarità, un suo modo di essere interpretato, quindi alla fine è stata una gara molto molto interessante e che ci ha fatto crescere sicuramente anche tutti quanti. Siamo andati io, la Chiara, Mirko Carapacchi e Andrea Ciccarelli, tutti i componenti del team Tanfoglio, siamo stati invitati dal match director, che è anche un tiratore Tanfoglio, quindi gran bella esperienza, gara, ripeto, molto divertente, 12 stage in un giorno, abbiamo finito verso le tre e mezza di pomeriggio di sparare, premiazioni e poi siamo ripartiti. Guardate i video sia dall'esterno che dalla fotocamera in testa e fatemi sapere cosa ne pensate. Probabilmente è una gara che torneremo a fare, anche se è un po' lontana, però molto consigliata, prezzo di iscrizione ragionevole e ripeto, Budapest, una gran bella città, quindi assolutamente da rifare. Ciao ragazzi! 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 Ciao ragazzi!